Porto d'Ischia, si discute per tutto l'inverno, poi arriva l'estate e la situazione ormai da tre anni è sempre la stessa. Sì, è sempre la stessa, ma direi anche peggio, se lo si può immaginare. Perché quando è iniziato questo trasloco degli aliscafi al puntile qui della rotonda, all'inizio anche le società di navigazione cercavano di collaborare, quando arrivavano con gli aliscafi vicino alla banchina spegnevano i motori, si tenevano determinate attenzioni. Adesso ci troviamo praticamente alla terza estate in questa situazione. Certe regole, piccole regole, naturalmente non se ne tiene più conto. Gli aliscafi non spengono i motori, abbiamo aliscafi che fanno dei rumori assurdi, praticamente oltre ogni tolleranza possibile e immaginabile, fumi praticamente irrespirabili, senza tenere conto che ci sono delle attività a poche metri, attività di ristorazione, senza tenere conto che ci sono delle abitazioni. La capitaneria che dovrebbe controllare, naturalmente come di norma, non controlla nulla, non tiene conto nemmeno delle stesse ordinanze praticamente sue. Non dico del codice della navigazione, quello ormai è stato gestinato da tempo, non dico delle ordinanze della regione, non dico delle ordinanze della capitaneria di Porto di Napoli, ma delle proprie ordinanze, non tiene conto. Rina che dovrebbe controllare la sicurezza dell'armamento, che dovrebbe controllare la sicurezza, mi fa ridere. Se tu pensi le normative oggi che ci sono, nessuna di queste barche potrebbe navigare. Dovrà succedere la tragedia. Ci troviamo in questa situazione, poi se ci giriamo intorno, la questione taxi, è una questione molto complicata e sarebbe anche molto semplice da risolvere. Ma chi è che la risolve? La risolve un'amministrazione, ma la nostra amministrazione praticamente è incapace di intendere e di volere. Praticamente il cervello è piatto. Se tu fai tutta la strada dopo, vedi buche dappertutto, turistiche cadono. Ma chi lo dici? Ormai non abbiamo più interlocutori. Vedi, questi sono letteralmente, io penso, conoscendoli bene tutti, sono incapaci. Noi pensiamo che realmente noi abbiamo messo lì sopra delle persone capaci, ma questi sono incapaci. Quello che succede a via Baldassarre Costa è ridicolo.